Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Dopo un quarto di secolo, è giunto il momento per Ciao Darwin, la celebre trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale 5, di chiudere i battenti definitivamente. Prima di salutare il suo fedele pubblico, il conduttore romano ha voluto dedicare un commosso pensiero alla famiglia Silvia, presente in platea accanto alla madre. Ciao Silvia, ciao amore mio, sono state le toccanti parole pronunciate dal conduttore, rivolgendosi alla ragazza seduta tra il pubblico al fianco di Sonia Bruganelli, un saluto intriso di profondo significato che riflette l'amore che Bonolis nutre per la figlia della coppia. Il legame tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è ormai agli ultimi capitoli, un fatto noto al pubblico. Dopo lungo tempo trascorso insieme, come annunciato dai coniugi, Bonolis ha sempre dimostrato affetto e sostegno per la figlia Silvia, oggi 21enne. Silvia ha affrontato difficoltà fin dalla nascita, con problemi neurologici legati a una patologia cardiaca diagnosticata quando era ancora nel grembo materno. Dopo un intervento delicato, ha attraversato un lungo percorso riabilitativo sia fisico che logopedico. La coppia ha sempre affrontato insieme le complesse sfide legate alla salute della figlia, rimanendo unita in ogni momento. Tu che ne pensi di quanto è successo? Faccelo sapere nei commenti, e attiva la campanella per seguirci. Ciao e grazie